Donatella, buongiorno, grazie per essere venuta qui alla conferenza stampa, tu sei assessore al comune di Assago? Sì, alle manifestazioni Tempo Libero, quindi organizzo gli eventi ad Assago e ho approfittato quando loro si sono presentati e mi hanno detto che vogliono fare la seconda manifestazione qui ad Assago, ovviamente ho dato subito il mio contributo perché credo che sia una manifestazione importante, tra l'altro ad Assago è storica la Team Festival e quindi ho dato il massimo della mia partecipazione per aiutare la seconda nuova edizione della Team Festival su Assago, che sarà sicuramente un successo perché so come è stato fatto l'anno scorso e quindi ci ho ricreduto un'altra volta. Tante manifestazioni, tanta cultura quest'anno, c'è veramente tanta tanta umanità abbiamo tutti i conferenzi. Soprattutto l'umanità, mi è piaciuta molto questa idea di aiutare i popoli che hanno bisogno, aiutare poi tre diverse specifiche umanità, una sulla tumore al seno, una per i bambini, del terremoto, non mi pare, e quindi io spero che anche i nostri assaghesi parteciperanno ad aiutare queste popolazioni. Grazie Donaterra, gentilissima, grazie.